Buongiorno, buongiorno, oggi è venerdì 28 agosto, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno anche oggi. Matteo Berto in regia, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, il Corriere dell'Alto Adige ci si occupa di caccia, le deroghe sono necessarie, Schuller replica la Corte dei Conti, 50.000 marmotte sono troppe, interviene la LAV, faremo ricorso, Giro d'Italia 2016, arriverà anche l'Alpe di Siusi, prima indiscrezioni c'è già chi prenota l'albergo, caso Rainerum, Randi si è dimesso, mi infangano ma il Partito Democratico lo critica, la cronaca ancora in lingua italiana con l'Alto Adige precipita e muore sull'Hortles, la vittima è Norbert Rabansen, 39 anni di Campodazzo, San Maurizio lunedì ruspe in azione per la nuova cantina, la realizzazione della nuova cantina dopo l'affare con Benco, sappiamo l'accessione dell'attuale sede di Piazza Gries Altar per salvare le poste, l'Aives fa ricorso contro la chiusura della sede di Pineta. La cronaca cura del quotidiano Dolomita è l'apertura dedicata alla tragedia che troviamo su tutte le pagine quotidiani nazionali e internazionali, e cioè i 40, da 40 a 50 persone sono state trovate senza vita all'interno di questo furgone, trovate furgone in territorio austriaco nella zona di Parduf e sempre per la cronaca anche Dolomita si occupa del caso, quasi ormai caso, delle marmotte in provincia di Bolzano. Il quotidiano Tagest Zeitung in apertura, una riunione a porte chiuse per alcuni rappresentanti dell'SVP, un coaching per cercare di capire quali siano i problemi e le soluzioni da adottare. Chiudiamo con la Sutirole Wirtschaft Zeitung, come sempre la pagina economica in lingua tedesca il venerdì, anche in Alto Adige ci sono alcuni che utilizzano il sistema di poter ritornare, far ritornare in territorio italiano i capitali detenuti all'estero, quali sono i rischi, cosa c'è da sapere. È tutto, è tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.